Grazie a tutti i fans della pagina esercizio dei bodybuilding, oggi alleneremo le spalle. Primo esercizio, si alzate a frontali con sbarretta al capo basso, saranno 5 stelle da 10-12 ripetizioni con pause di un minuto. Primo esercizio, si alzate a frontali con sbarretta al capo basso, si alzate a frontali con sbarretta. Secondo esercizio, Arnold Press, faremo 5 serie, 15-12-10-8-6 con pause di un minuto e mezzo. Ok! 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 Arnold Press con 28 kg. Non è tanto perché il peso non è che sia un peso pesantissimo. E solo un piccolo obiettivo ho raggiunto. Spero di riuscire a farne 6 perché era un po' che non facevo questo peso. Ok! 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 6 un pochino più leggeri, movimento non perfetto, movimento un pochino sporco, da picchiare bene laterale e tutto il blocco dietro, trapezio e spalla posteriore, perché col peso pesante quando scendi da tenere, vai a tirare molto sulla parte anche posteriore, ok? Quindi 5 serie, 6 più 6 con pause di 1.5. Quarto esercizio, faremo di nuovo le alzate laterali però alla macchina, queste saranno 5 serie da 20. Ultimo esercizio, faremo le spalle di un pochino. Le spalle posteriori, faremo le tirate posteriori, con i manubri, contrazione, comunque la parte posteriore della spalla, blocco trapezio e spalla posteriore, ponete questo e si chiude. 5 per 12. 5. 6.